Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una cover di Anycast Solutions dedicata all'iPad mini. Dell'azienda vi abbiamo già mostrato al tempo un'altra custodia dedicata all'iPad mini doveva ancora essere ufficializzato e è arrivato ad essere compatibile con le forme che erano state annunciate da vari rumor sparsi in giro. Nello specifico vediamo quello che è considerabile come un prodotto di serie, nello specifico infatti è una custodia IC case semi trasparente come colorazione che trovate nello store, costa circa 17 euro, se non ricordo male, il prodotto in questione quindi è dedicato al tablet compatto di casa Apple, nello specifico vediamo cos'è contenuto in questo caso nel box di venita e questa busta, semplice e veloce, il tutto non presenta particolari fronzoli, tuttavia procediamo come sempre allo spacchettamento. Questo è il nostro prodotto, come potete apprezzare parliamo di custodia morbida, quindi sarà di comodo utilizzo, abbiamo comunque l'accesso per la zona inferiore così da non dover smontare la cover nel momento in cui va a essere utilizzato per esempio il chiavo di sincronizzazione, accesso per i tasti laterali come anche per quanto riguarda il vano fotocamera, abbiamo inoltre il foro per quanto riguarda appunto la posizionamento superiore del jack cuffia. Il tutto quindi si configura come un qualcosa di molto usabile, come vedete è davvero morbido e eccedevole da questo punto di vista e quindi sarà anche di comodo utilizzo nel momento in cui lo afferrate appunto con le vostre mani. La demo ad ogni modo sullo spacchettamento termina così, sarà messo in funzione, poi ovviamente vi faremo un rapido report sul suo utilizzo. La demo è conclusa, non c'è altro da mostrarvi, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Denimotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online presto da Giuseppe Ragozzino. Grazie.